Ciao bellezze, bentornate sul mio canale Veritas Genesis. Voglio parlarvi di un argomento, voglio farvi conoscere un gruppo, una filosofia, un movimento e un'organizzazione che è considerata la più forte delle forze dinamiche nella vita ebraica oggi, la comunità Chabad Lubavitch. Ok, 21.500 e qualcosa followers che sono disperatamente calati dopo uno scandalo enorme che li ha colpiti, ma voglio farvi capire, darvi un overview su che cos'è la Chabad Lubavitch. Voglio dirvi anche che Netanyahu ha studiato alla Chabad Lubavitch, sinagoga di New York, così come altri molti personaggi influenti. Ok, vedete molte foto, Shabbat Shalom, ok. Vedete Shabbat Shalom, è stata fatta una celebrazione il 15 dicembre 2023 fuori dal Colosseo, A Menorah Shines Bright. La Menorah è questo classico candelabro a otto braccia, che precede, diciamo fa parte della festa del Chanukah, che è quello che è il nostro Natale, ma in maniera molto differente ovviamente, noi celebriamo il Natale. Loro celebrano il Chanukah. Il Chanukah è celebrato anche da moltissime star di Hollywood, che mandano i propri figli alle scuole ebraiche, rabbiniche. Ok, una tra tutti, una delle streghe armene, di cui parlo spesso, di cui ho anche parlato nell'ultimo mio video di Kanye West. Ok, quindi cerimonia a Roma, ok, dove si trova il rabbino Manachem e Rvichie Lazar, ok, Shabbat in piazza Bologna in central Rome. Sono in tutto il mondo, ok, a Roma. In Polonia, addirittura, all'interno del Parlamento si è accesa una Menorah, ma uno addirittura ha chiamato un membro del Parlamento antisemita. Qui non è questione di antisemitismo, ma vedete come loro si parano sempre dietro? L'antisemitismo non si può dire una parola contro di loro. Sono tutti belli, buoni e santi, altrimenti sei un antisemita, sei un nazi e quant'altro. Sono sempre coperti. Questo deputato ha usato spegnere le candele. Perché? Perché all'interno del Parlamento europeo non ci può stare questa cosa. del Parlamento polacco non vogliono che ci sia una Menorah, ok, ma poi ovviamente tutto è stato ripristinato a dovere, abbiamo nuovamente schiacciato l'antisemitismo. Ok, guardate un po'. Ok, guardate un po' Ora parlano ucraino, segue un discorso non a noi comprensibile, no? I rabbini Chabad in Ucraina. Avete sentito cosa ha detto il rabbino? Però noi vinceremo. Prima di tutto il discorso è un discorso. E ad altro, vedete? Chi volesse saperne di più su questa comunità può visitare questa pagina. Il cancelliere storico tedesco Olaf Scholz ha partecipato alla pubblica accensione della Menorah il 7 dicembre 2023. coordinata dalla comunità Chabad di Berlino, in solidarietà con Israele. Sveglia. Ok, c'è un genocidio in corso. Ma loro sono sempre belli e bravi, se no tu sei un antisemita e un nazista, ok? Vediamo le foto. Chanukka, la festa che vi dicevo. Una gigantesca Menorah davanti alla porta di Brandeburgo, ma come era stato per la bandiera di Israele fino a poco tempo fa. E questa è l'attendance. Ok, sappiate che sono in giro in tutto il mondo queste Menorah. E chi volesse può continuare. Quello che forse non tutti sapete è che la comunità Chabad-Lubavich di New York è stata coinvolta in uno scandalo pazzesco. Proprio ultimamente. Vedrete una serie di account Instagram, sono tutti validissimi e formidabili. Non li nominerò uno per uno, potete leggerli. Guardate un po' che è successo. Un misterioso tunnel è stato scoperto sotto una sinagoga di New York. Un tunnel che arrivava anche sotto ad altri edifici circostanti e al cui interno sono state trovate cose raccapriccianti. L'arrivo dei poliziotti, mentre questi ebrei, insomma, i membri di questa sinagoga stavano cercando di ripulire. Ed è scoppiato un riot, ma i poliziotti sono rimasti molto molto cortesi, come potete vedere. Ora vedrete delle immagini forti che si commentano da solo. Sono ossa umane e teschi di bambini. Questi sono i cosiddetti sepolcri imbiancati di cui parlava Gesù, che da fuori appaiono giusti e candidi e dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni genere, di putridume. Chi volesse vedere il video completo può andare al canale. Chabad Lubavitch ortodox jewish sect. Tunnel segreto scoperto sotto la sinagoga di Brooklyn. Le cittadone, che avevano lungo, disegremmo, burrowe sulle tunture diverse bambini per ripulire in la sinagoga. Le cittadone in combina e distrò i fixtures. Il cittadone è stato qui, e questi individuos, o alcuni dei miei, magari, I rappresentanti hanno dato varie versioni, tra cui il fatto che i tunnel fossero stati costruiti durante il lockdown per attendere attendance, cioè per frequentare comunque la sinagoga, oppure che ci si volesse costruire una specie di bagno turco che ha un altro nome per soli uomini, ma ciò che è stato trovato all'interno non regge con queste spiegazioni. Ed ora ci sono, dice, degli ingegneri che stanno studiando se questi scavi hanno danneggiato le fondamenta degli edifici vicini, perché ci si era accorti, oltre che dai rumori riportati da alcuni abitanti del quartiere, anche dal fatto che in alcune parti il marciapiede si stava abbassando. Vedete, materassi sporchi, dice, quello che è uscito sono cose orribilanti, materassi sporchi, ed eccone uno, e seggioloni, li vedete qua, ammocchiati. Vedete un luogo che è di enorme importanza per gli ebrei in tutto il mondo. Vi ho detto che Netanyahu ha studiato a New York, in questa sinagoga appartenente a questa comunità, appartenente a gli ebrei ashkenaziti. I responsabili dicono che ci sono stati atti di vandalismo, non c'entrano niente, ma il sacrificio umano, soprattutto di bambini, in Israele è ampiamente documentato, non solo in un libro come questo, ma nella Bibbia stessa. Basta leggerla, ok? E nel mio secondo video farò degli approfondimenti delle letture bibliche, dove si parla proprio di questo. Chi è morto il sinagoga? La police ha scoperto un tunnel di un sinagoga in New York. Un uomo ha accennato che c'erano giù i suoi appartamenti. Dice, io ho sento come si sono scoperto o qualcosa. Per la ricorda, io vivo a un livello e non abbiamo un basso. Il tunnel è circa 60 lontano e è extinto sotto molti diversi bambini in la vicinità. At least 10 persone hanno già stato arrestato e non solo è questo un rischio grande rischio per i suoi appartamenti, ma molti sono preoccupati di cosa questi tunnel sono realizzati, soprattutto perché il museo di bambini giudici può essere trovato sull'occhio direttamente all'estero dell'estero. Il museo dei bambini ebrei si trova proprio all'angolo, così come anche un asilo nido. But the things that were being pulled out of the tunnel were interesting, like stained mattresses. When all this was found, they started to vacate the synagogue immediately and this erupted in a riot. Now this story is still developing, so I'll be sure to update you guys when I get new information. Ok, una storia che sta, si sta ancora evolvendo. Qua toglierò il volume, i tunnel segreti di Chabad Lubavitch e quei legami con la pedofilia di Cesare Sacchetti, la cruna del lago di Cesare Sacchetti. Quando molti hanno visto le immagini degli uomini del dipartimento di polizia di New York fa riduzione nel quartier generale della setta sionista messianica, che cosa vuol dire? Loro aspettano, come tutti gli ebrei, l'arrivo del messia perché Cristo non è stato riconosciuto come messia, è stato crocifisso. Chi è il loro messia? È quello che sarà il nostro anticristo. La setta sionista messianica Chabad Lubavitch e arrestare molti rabbini si è diffusa una generale sensazione di stupore. New York è una città molto particolare per il mondo ebraico, in quanto essa ospita la più larga comunità di ebrei al mondo, persino superiore a quella che c'è a Tel Aviv, in Israele. Questo ha portato alcuni a definire ironicamente New York come Jew-York, laddove Jew in lingua inglese significa ebreo. Quando la polizia ha comunque fatto eruzione nella sinagoga, sono stati scoperti dei tunnel segreti sotterranei la cui funzione non è ancora stata spiegata da Chabad. Gli esponenti della setta hanno ringraziato il dipartimento di polizia di New York, ma non hanno saputo, o voluto, offrire alcuna spiegazione convincente sul perché questi tunnel siano stati costruiti. Lo scorso lunedì era stata chiamata una betoniera per riempire questi sotterranei, ma ciò ha provocato la rivolta degli ebrei ultraortodossi di Chabad. La polizia è stata chiamata per risolvere l'incidente e i vari rabbini hanno reagito con rabbia, gettando addosso ai poliziotti i banchi di preghiera della sinagoga. Gli ufficiali hanno poi provveduto ad eseguire gli arresti dei facinorosi e Chabad ha rilasciato una nota nella quale ha provato a prendere le distanze da alcuni estremisti che non erano in linea con lo spirito del movimento. Ciò però non spiega come e quando quei sotterranei siano stati costruiti e appare assurdo pensare che il movimento non sapesse che al di sotto della sua sinagoga ci fossero dei passaggi segreti. Non ci prendete per il culo e non ci chiamate antisemiti e nazisti, perché questi sono fatti. In quel preciso istante orrende immagini hanno attraversato la mente di molte persone che hanno pensato che in quei tunnel nascosti avesse luogo un vasto traffico pedofilo con il placet del quartier generale di Chabad Lubavitch. La pedofilia è la piaga della nostra terra, non è il covid, non sono le altre cazzate. È la pedofilia, è l'offerta, il sacrificio dei bambini a Moloch, come hanno sempre fatto anche gli ebrei stessi. E' ciò che dà maggiore culto al principe di questo mondo, ok? Esistono varie testimonianze di sopravvissuti ai giri della pedofilia internazionale che descrivono questi tunnel utilizzati dai trafficanti per praticare i loro abusi e spostare le vittime di questi traffici disumani, scusate. I media mainstream, mentre scriviamo quest'analisi, sono impegnati ovviamente a difendere l'immagine dei Chabad Lubavitch e sulle pagine dei quotidiani internazionali dell'anglosfera è tutto un proliferare di termini Senza senso, quali complottismo di destra o teorie del QAnon o QAnon nel tentativo di liquidare il tutto come il parto di qualche mente dotata di troppa immaginazione? Farò un video sul tema del QAnon. Non si tratta però di immaginazione ma di storia documentata non è la prima volta che questa setta sionista si trova associata a fatti di pedofilia e persino sui quotidiani israeliani troviamo le inquietanti storie che li riguardano. Ok, sbucano dalle fogne. Questo è il momento di... che tutto stia venendo all'escoperto che il vaso di Pandora si stia aprende. cose che molto di noi, molti di noi, sapevano già da molto tempo. Stanno venendo fuori al pubblico. Il quartiere di Crown Heights a Brooklyn in New York, Brooklyn Estown. La parte più densamente abitata da ibrei di New York. New York. New York. New York. New York. Genesis Nirvana 7. Andare nelle mie storie in evidenza e aprire la cartella Zionism per farvi capire a che livello di potere sono gli ebrei Ashkenaziti. Sono i CEO di tutta l'industria musicale di Hollywood, dell'intrattenimento, anche dello sport, anche del sistema finanziario, anche delle case farmaceutiche. Ok, continuiamo. Noi. 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 video sugli Ashkenaziti, la storia di Kazaria, l'impero mai raccontato che potete trovare sul mio canale, ma stavolta parliamone estensivamente. Volevo farvi vedere delle immagini, scusate, eccomi, Chabad, dei commenti, vedete Kanye was so right, Kanye aveva ragione, vedete il tunnel proprio vicino a un asilo per bambini, ok? Diceva tuttavia nessuno saprà mai con certezza per che cosa erano usati questi tunnel, ok? Poi, un altro commento interessante, il tunnel è meno di mezzo miglio dalle residenze di Hepstein. Amo come nessuno ha fatto menzione di questo fatto, secondo materassi macchiate di sangue, ok? Potete continuare a leggere il commento, poi dice Satana è reale e così è Yehua, ok? Devi prendere una posizione, ok? Anche se nessuno ti darà un trofeo in questo dibattito. E per tutto ciò, per tutti coloro che non sono a conoscenza della religione che i sionisti seguono, allora parliamo del Talmud, perché loro leggono questo libro, ok? E proprio qui volevo arrivare, ma non perché lo abbia letto da questo commento, ma perché questo è stato un commento intelligente, ha toccato una parte centrale, il Talmud, e ne parlerò a breve. Volevo soltanto finire di leggere. Segreti trovati sotto il quartiere generale della Chabad Lubavitch a New York, sto seguendo la storia dei tunnel segreti trovati sotto il quartiere generale a Crown Heights. Un proprietario di una casa di Union Street ha detto Crown Heights Info diverse settimane fa di aver sentito rumori sospetti di notte nella sua casa per un periodo di tempo, mentre il rumore continuava il proprietario della casa preoccupato ha informato qualcuno dei suoni e del suo sospetto. Il leader e coordinatore dei tunnel sotto la sinagoga Chabad di New York, Samuel Heidelberg, ha ammesso davanti alla polizia che vengono usati per rapire e trafficare bambini. Heidelberg, anche questo è una schienazita o Yiddish, questo cognome. Chi erano gli ashkenaziti? Quella parte di ebrei tedeschi, è una parte di ebrei, quindi hanno cognomi tedeschi come Epstein, che suona però in realtà Epstein, come Harvey Weinstein, che in realtà suona Harvey Weinstein, Heidelberg, Schlein, ok? Tanto per citarne alcuni. Ecco le immagini che ho salvato. Questo è interessante, parlando di New York e quanto quella città sia profondamente satanica, guardate questa statua, statua, non lo so, forma d'arte che raffigura una creatura simile a un rettile che trascina un bambino sottoterra. Il rettile ha mani umane ed è vestito, sembrano, con un completo, una giacca. Questa statua di un rettile che trascina un bambino nelle fogne si trova a Brooklyn, New York, lo stesso quartiere in cui sono stati rinvenuti i tunnel sotterranei sotto una sinagoga, e non un a caso. Così strano un rettile che indossa un abito che rapisce un bambino trascinandolo nell'oscurità. Notate come l'artista, tra virgolette, ha deciso di rappresentare il bambino anche come un sacco di soldi. Cosa significa tutto ciò? Qual è il simbolismo? Cosa viene comunicato? Penso di sapere. Qua si vede, vedete la testa del bambino, raffigurata come soldi. Questa è la lunghezza e l'estensione dell'argomento di cui stiamo parlando. A breve concluderò questa mia prima fase per passare alla seconda. Ora andiamo sul mio DuckDuckGo. Mi raccomando, queste ricerche non si fanno su Google. Il Talmud. Che cos'è questo Talmud? Ciò che studiano è il Talmud babilonese, tutte le scuole rabbiniche. Un Talmud scritto in Mesopotamia, durante l'esilio, tra il III e il V secolo d.C. No, scusate, non è stato scritto durante l'esilio, ma tratta dei costumi che gli ebrei e le idolatrie che gli ebrei hanno assimilato ampliamente durante la loro permanenza in Babilonia. Un Talmud redatto nelle accademie rabbiniche e gli escivot della Mesopotamia tra il III e il V secolo. Il Talmud contiene molte cose giudicate non consone, non ortodosse, tra virgolette, anche riguardo ai bambini. Ok, il Talmud babilonese. Parliamo di questo esilio babilonese. Esilio o cattività babilonese è definita la deportazione a Babilonia dei giudei di Gerusalemme e del regno di Giuda al tempo di Nabucodonosor II. Dal punto di vista cronologico, la questione è comunque controversa, può essere indicato un periodo di massima compreso tra il VII e il VI secolo a.C. L'esilio nella Bibbia. L'esilio c'è nella Bibbia, nella Bibbia, ragazzi. C'è tutto, tutte le spiegazioni che volete, sia nell'Antico Testamento, sia nel Vangelo, da parole uscite direttamente nella bocca di Cristo, quando si rivolge ai farisei. Sono direttamente collegati a questo avvenimento i seguenti libri biblici. Secondo libro dei Re, secondo libro delle cronache, che terminano con l'esilio, quindi pre-esilio. Ezra e Nemia, che iniziano dall'esilio e raccontano la ricostruzione a Gerusalemme. Libro di Geremia è il libro delle lamentazioni che preannunciano la catastrofe imminente. Ezechiele, che è deportato a Babilonia. Nel mio secondo video vi parlerò di Ezechiele, di che cosa descrive il profeta, di ciò che avveniva in Babilonia, di ciò che di abominevole erano riusciti a fare gli israeliani che avevano completamente pervertito la loro condotta. Libro di Aggeo e Libro di Zaccaria raccontano il ritorno. Molti salmi ne fanno esplicito riferimento. Ok, l'esilio babilonese. Gli ebrei in Babilonia assimilano qualcosa di molto importante. E una parte di loro non la lascerà mai andare. Tanto è vero che le scuole rabbiniche in Mesopotamia, quello che ho letto prima, dove si è scritto il Talmud babilonese, quindi una legge, un Talmud rivisitato. Ok, the Babylonian Talmud. Based on the teaching of the Mishnah. Cos'è la Mishnah? E' il testo principale del Talmud. Ok? chabad.org. Ok, avete visto? Il Talmud è strettamente legato alla Kabbalah. E a breve concluderò. Che cos'è la Kabbalah? Ne ho parlato tante volte. Perché il rabbino Isaac Luria, uno dei più famosi luminari in questa mistica, in questa forma di gnosticismo e di conoscenza, ha influenzato tutto quello che è stato poi il movimento della teosofia di Alice Bailey, di cui ho ampiamente parlato. Ok? La Kabbalah, una forma di gnosi, di origine ebraica, che ha attratto molti, soprattutto nel Medioevo. Il termine ebraico Kabbalah o Kabbalah significa tradizione o ricezione di un dono. E' la Torah orale che Mosè ha ricevuto sul Sinai. Ok? Aleteia.org. Piuttosto corrotta questa versione della verità addirittura. E la legge è scritta sulle tavole. Non è così. Non c'è nessun riferimento alla Kabbalah nella Bibbia. Ok? La Kabbalah è una dottrina esoterica. Ok? E non è l'autentico contenuto della Torah. La Kabbalah porta, e ha portato molte persone, ad uno stato di possessione demoniaca. E qui lo dico e lo confermo, perché mette direttamente a contatto con degli esseri, con una conoscenza data da esseri superiori che vengono chiamati per nome, quindi evocati. La Kabbalah è magia immediatamente attiva, immediatamente funzionale. E' una cosa pericolosa. Non iniziatevi a questo culto. Ok? State nei lontani. La Kabbalah è una forma ebraica dell'agnosi, che punta a penetrare nella conoscenza dei misteri della divinità. è una tradizione mistica ebraica fiorita nell'insegnamento di due scuole. La scuola pratica, con sede in Germania, ovviamente, che si concentrò sulla preghiera e sulla meditazione, la scuola speculativa di Provenza e della Spagna. hanno il loro libro sacro, il libro della creazione, il Sefer, lo Yetzirah, libro della creazione, uno dei più antichi trattati rabbinici della filosofia kabbalistica aggiunti fino a noi, tratta dell'origine dell'universo e dell'umanità. E' importante precisare che nella lingua ebraica e nel contesto del Sefer Yetzirah si associano lettere e numeri. Ogni lettera suggerisce un numero, ogni gruppo di lettere possiede un significato numerico fondamentale. Come comunicano gli angeli caduti? Attraverso successioni di simboli e numeri. L'ho detto tante volte. Ok, le 32 vie della saggezza che corrispondono ai dieci numeri che nel linguaggio kabbalistico si traducono con dieci sfere e sefirot. Non andate più avanti di questo. I numeri identificati con le dieci dimensioni infinite del cosmo, ovvero quelle del tempo, l'inizio e la fine, i due valori morali, il bene e il male, le sei dimensioni dello spazio. Tutto ciò sembra molto affascinante, ma tutto ciò è emanazione diretta degli angeli caduti. Satana ha preso il popolo eletto di Dio e lo ha trasformato nel suo popolo. Ovviamente è tipico di lui questa cosa, molto tipica. Un'ultima cosa. Eccolo. Le origini e la storia della Kabbalah. La Kabbalah claims, cioè dice, pretende che il suo autore sia divino. è emanazione divina. Ma di quali dei? Sicuramente non dell'unico e vero Dio. Avete mai sentito Gesù nel Vangelo parlare di Kabbalah? Io non credo proprio. Secondo la tradizione, la verità della Kabbalah fu data da due angeli. Prima che Dio creò il mondo. Dopodiché l'uomo la ricevette in tre separate occasioni attraverso tre uomini. Adamo, infatti l'Adam Kadmon dell'alchimia kabbalistico, l'ha ricevuto dall'Arcangelo Raziele. Poi Adamo e Deva sono stati espulsi dal giardino dopo che l'ha visitati l'Arcangelo Raziele per comunicargli la Kabbalah, la conoscenza del bene e del male. Andatevi a rileggere Genesi 3. Genesi 3. La caduta. Si apriranno i tuoi occhi e conoscerai la differenza tra il bene e il male. Ok? E insomma, è in altre circostanze. Dice, la Kabbalah deriva da antiche pratiche dei sacerdoti che hanno lo scopo della trasformazione umana. che è un kabbalista è automaticamente anche un occultista e un alchimista. Ok? Abramo, secondo questa teoria, fu il secondo a ricevere. Questo è un sito kabbalistico, ovviamente. Vedete? Quindi Abramo, tutti coloro che Dio ha scelto, Mosè il terzo, Adamo, Abramo e Mosè, i tre uomini più importanti dell'Antico Testamento. Ok? Abramo è stato iniziato, secondo questa tradizione, da Melchisedec. Ok? Addirittura viene data a Mosè sul Sinai quando riceve i dieci comandamenti. Ok? È andato. La seconda volta c'è tornato e ha ricevuto la kabbalah. Ok? Questo è quello che loro credono. Ok? Quello che loro insegnano. Ok? Una volta, fino a 40 anni, gli ebrei non potevano studiare la kabbalah, ma ora questa restrizione è stata abbandonata. Ok? Qui è importante. Present day kabbalah. La kabbalah oggi è stata passata a noi attraverso John Dee, che era un matematico e geografo, e Isaac Luria, chiamato comunemente come il più grande kabbalista dei tempi moderni. Ok? Yehuda Berg. Io ho letto diversi documenti, saggi e scritti di Yehuda Berg. E non ve li consiglio, non sono assolutamente necessari né per la vostra sanità mentale, né per la comprensione reale della realtà. Però volevo farvi vedere chi erano queste persone. John Dee. Il nome lo conoscete, sono sicura, ma non sapete chi è. È stato un matematico, geografo, alchimista, astrologo, astronomo inglese presso la corte della regina Elisabetta I, figlia di Anna Bolena. Anna Bolena è un personaggio molto, particolare, condannata per, successivamente per incesto, adulterio. Aveva sei dita, quindi probabilmente era di discendenza Nephilim, eccetera, eccetera. Ma potremmo anche solvolare su queste cospirazioni. Perché? Perché guardare i film che caga Hollywood è molto più bello, no? Su Elisabetta I, su Anna Bolena è molto più bello, è più reale, giusto? Si dedicò inoltre per la maggior parte della sua vita all'occultismo, alla divinazione, alla filosofia ermetica. biografia è un personaggio assolutamente interessante. L'astrologo di fiducia della nuova sovrana Elisabetta I, spesso la consigliò addirittura riguardo alle materie occulte. Fu perfino lui ad organizzare la data di incoronazione della regina Elisabetta I. Si occupò sempre più del soprannaturale, compresa l'arte della necromanzia, accusato altre volte di stregoneria. Ok? John D. Chi volesse approfondire? Scusate, ho perso la pagina. Comunque sia. Isaac Luria. Vedete bene. Isaac Ben Solomon Luria Ashkenazi, commonly known as Jewish or Dis... Scusate, comunemente conosciuto nei circoli religiosi giudaici come Ahari, Ahari, Akadosh. Credo che questo significhi un qualcosa, Ahari, un appellativo. Era il rabbino capo del misticismo giudaico nella comunità di Safet, nella Galilea, nella regione ottomana della Siria, ora Israele. È considerato il padre della cabala contemporanea. I suoi insegnamenti sono riferiti come la cabala lurianica, Isaac Luria. Questa è la sua tomba. Luria è morto a Safed, Damascus, nel 1572. è stato sepolto nel vecchio cimitero di Safed, di Ari Ashkenazi Sinagogue, also located in Safed. Quindi c'è una sinagoga, di Ashkenazi Ari Sinagogue, costruita a Safed, in Israele, in memoria del drabbino Isaac Luria. Vedete come la cabala, che è contaminazione pagana, occulta, fa parte di Israele, non di tutti, non tutti si sono pervertiti. alcuni sono rimasti fedeli, ma ce n'è una grossa parte che frequenta la Ashkenazi Ari Sinagogue del grande maestro cabalistico Isaac Luria. Ok? A great cabalist who arrived in Safed nel 1570. Ok? La più antica sinagoga in Israele. ancora inutilizzo. Ok? Ma il nome Ashkenazi l'hanno tolto, ora è conosciuta come il nome di Luria l'hanno tolto, Sefardic Ari Sinagogue, per chi volesse approfondire. chi sono questi Ashkenazi? Parliamone, no? Dopo la diaspora, una popolazione che è emersa dal Sacro Romano Impero è alla fine del primo millennio dell'era attuale, quindi sono piuttosto attuali, è attuale questa diaspora. Ok? Alla fine del primo millennio current era. Ok? Quindi intorno all'anno 1000 parlano Liddish. Ok? Sono gli ebrei di Germania. Questo è il termine Ashkenazi. Guardate dove vivono United States 5-6 milioni. Tutti gli ebrei negli Stati Uniti sono Ashkenaziti, ebrei di origine tedesca. Israele 2,8 milioni. Sono in tutto il mondo anche parecchi. In Italia 28 mila. Vediamo in Ucraina, perché l'Ucraina era il centro dell'antico impero di Kazaria. 150 mila. Ok. Regno Unito 260 mila. Non pochi. Ok? Guardiamo un po'. Gli ebrei a New York. Gli ebrei sono approssimativamente il 9% della popolazione di New York City, ma anche qualcosa di più. Facendo degli ebrei della comunità ebrea la più grande nel mondo fuori da Israele, ma anche dentro Israele. Ok? New York City. Il giudaismo infatti è la seconda più grande religione praticata a New York, con 1,6 milioni di aderenti nel 2022. La più grande comunità religiosa ebraica in ogni città del mondo più che Tel Aviv e Gerusalemme combinate insieme. Più della metà degli ebrei vivono a Brooklyn. Ok? Solo per darvi un'idea della magnitudine di questa cosa. Nella seconda parte farò riferimenti biblici a tutto quello che abbiamo detto in questo video. grazie per essere stati con me fino alla fine. Ci vediamo prestissimo con il proseguimento, la parte davvero importante, quello che ci riporta alla fonte, alla scrittura, alla spiegazione del perché di tutto ciò. Grazie mille, ci vediamo prestissimo. Baci da Nirvana. Grazie mille,